Per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027, la Regione Marche si dota di un soggetto gestore unico per tutti gli strumenti finanziari di sostegno all'accesso al credito attivabile su ogni genere di fondi. A seguito della procedura di gara è stato selezionato il raggruppamento Credito Futuro Marche, costituito dai confidi Unico in qualità di mandatario, confidi Cop Marche e Artigian Cassa del gruppo BNL Paribas, che gestiranno un ammontare di circa 91 milioni di euro complessivi di intervento pubblico. Oggi noi abbiamo ufficializzato una misura importante di 91 milioni di euro con la nuova programmazione europea, ma non solo con la nuova programmazione europea, ma con una parte di fondi anche regionali per il sostegno alle imprese piccole e medie della nostra Regione nel settore finanziario, di fatto con un abbattimento dei costi di interesse e soprattutto con un'azione di garanzia verso i finanziamenti che sono fondamentali. Abbiamo stanziato 91 milioni di euro, di questi 91 milioni di euro i primi 20 milioni usciremo con un bando ai primi di gennaio per piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. Questo è molto importante per i costi che le piccole e medie imprese hanno per l'accesso al credito per garanzia contro garanzia. Noi garantiremo il 4% del tasso di interesse, la rimanenza la pagheranno le piccole e medie imprese e in più ci sarà anche il costo della garanzia fino a 5 mila euro. Sono importanti misure per risolvere la criticità che le imprese purtroppo stanno vivendo in questo momento. Credito Futuro Marche è una riunione temporanea di imprese, cioè noi, Confidicop e Artigiancassa per gestire questo importante strumento che la Regione ha messo a nostra disposizione. Io penso che sia un cambiamento epocale per la presenza di una piattaforma che digitalizza completamente l'accesso ai bandi per la semplicità, per le informazioni che saranno veicolate alle imprese. Quello che la Svam svolgerà sarà un'attività di controllo perché comunque le risorse europee che sono state cofinanziate dalla Regione Marche dovranno essere rendi contate per non, alla fine della programmazione, non perderle. Per cui la collaborazione in questo caso tra Svam e il Credito Futuro Marche avrà appunto questo compito di controllo e di indirizzo qualora le risorse indirizzate appunto sui bandi non avranno la tiratura dovuta.